mhr padel day challenge 2022 seconda edizione benvenuti mhr con me sts hotel ricordiamo caro giuseppe benvenuto su mhr ricordiamo che siamo nello stand di sts hotel salutiamo anche federico perché voi siete nostri partner commerciali molto felici anche quest'anno come l'anno scorso anche l'anno scorso stessa spiaggia stesso mare profumo di padel padel profumo di padel quest'anno questo ponentino che ci rinfresca ma non troppo giornata freschissima giornata freschissima ideale proprio è un po di sport ti ricordiamo che in questa gara di padel questo nuovo modo il nostro format di fare networking con musica intrattenimento e sport i superstiti questa sera chi ce la farà si sfiderà con vincent candela e gigi di biaggio i fortunati che riusciranno a arrivare alla fine di questa giornata fresca abbiamo l'ambulanza fuori guarda io pensavo c'è tutto ragazzi perché qua dobbiamo dobbiamo cercare di resistere anche noi perché sotto questo sole non è detto che senza giocare potrebbe siamo su questo campo meraviglioso ricordiamo la location perché questo è il parco archeologico più grande d'europa quindi ricordiamo che non siamo in un luogo qualunque a due passi dall'appia antica musica del nostro antonio nasca nostro direttore by mhr e ci siamo ci siamo ci siamo anche in questa edizione non potevamo mancare come sponsor a noi fa sempre molto piacere non abbiamo non ho potuto partecipare come giochi non gioco stavolta federico mi manca la spalla era la persona che la volpe senso positivo e simpatico assolutamente assolutamente avrebbe dato spettacolo e quindi vabbè niente comunque non potevamo mancare adesso io le radioline andremo in giro con questi bei dei plan e andremo a distribuire vedere quello che proponiamo e poi in questa giornata calda anche come ventaglio si come dicono i francesi gli occhiali quest'anno pazzeschi tra l'altro ricordiamo non siamo riusciti in tempo per questa edizione ci rifaremo e allora grazie sempre bello vedervi seguite anche un po le novità perché questo è un anno particolare che anno sarà questo è una previsione e allora un anno io mi auguro sempre positivo nel termine positivo a livello di tampone esatto e speriamo bene speriamo bene abbiamo fatto un buon inizio di anno e quindi novità cosa bollente e non si può dire pescara manzia giusto sts hotel andate un po a curiosare la loro pagina facebook il sito grazie grazie mille